Allora, hola chicchi, hola chicchi, ciao belli, ciao belli, ciao 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 Allora, dunque, innanzitutto penso che già vediate cosa ho sulle labbra E sta cosa è tutto un dire, ma chiudo qua perché Ve voglio fare un video a parte perché cioè, sono troppo emozionata, sono stanca, ma sono emozionatissima Allora, ho fatto il vlog, stamattina Ecco, acquisti E siccome sono ancora truccata da stamattina E non c'avevo voglia di ritruccarmi assolutamente Anzi, mo' mi strucco E chi si è visto, si è visto Cioè, qui veramente non si sa più dove entra Arrivazzini, voi mi dovete aiutare E quindi, ho colto l'occasione E so veramente stanca Perché stamattina acquistare mi ha stancato Perché abbiamo girato veramente per Mare e Monti Questa colla duo, vi prego qualcuno mi aiuti Perché io la odio Tutte le labbra, ma non io la odio Allora, vi volevo fare l'ultimo che ho preso da Tiger Però dovete vedere che ho sulle labbra E poi mi dovete dire Come faccio a non amave Cioè, come faccio a non amave Ragazze, è coco È qualcosa di Oh my god Cioè, ho messo il pallino Quaggiù non mi ricorderò mai di guardare il pallino Allora Ho mangiato adesso Mi è arrivato un pacco da una ragazza E ho ricevuto i miei primi Nabla Perché io non avevo niente della Nabla Solo un rossetto che mi mandarono Per una vecchia collaborazione E quindi naturalmente Questa ragazza che si chiama Joeggia Io Jo Cioè, ho aperto sto pacco Sono morta Te giuro, sono morta Questo era come sorpresa Perché le avevo detto che mi facevano pazzi E boh bimbe Io mi lasciate sempre a bocca aperta Fatemi sapere se vi interessa Che mi ha mandato un sacco di lip con le palle Perché questi sono lip con le palle Colore mocaccino Come le chiama lei Mortaccino Anzi, non mocaccino Mortaccino Cioè, il colore che adoro Adoro Io Comunque Le ciglia Finte Le ciglia finte No, le ciglia della tua nonna O del Lo metto qua su Sono sempre della Lotus E queste invece sono le 308 Ragazzi, queste ciglia Sono capelli umani Ma, cioè, costano una balla Cioè, costano 35 euro a ciglia Vabbè, fatemi sapere se vi interessa il video del lip Ma credo che ve lo farò Perché non posso resiste Devo cercare sto pallino Perché almeno un minimo Ma su, guardo Cioè, se no Quindi fatemi sapere E poi vi farò Ma avete chiesto questo diup Ragazzi Ve faccio tutto Soltanto voglio testare le cose Perché specialmente diup Ve le voglio L'ho messe pure male Ma sta colla a me Mi fa Rescere Comunque Allora Questo è il mio primo All that tiger Perché io Non avevo mai Fatto un all that tiger Quindi c'è Potevo rimanere indietro? No Sto scherzando Naturalmente sono andata Prendendo delle ciabatte Tutte queste cose Ve le dirò Nel link Nel blog Sembro sudicia Ma non è così È solo l'unica maglietta A mani lunghi Infatti stamattina Sono andata al cinese Per prenderne altre Allora Cominciamo Con il pezzo forte Di tiger Allora A parte Che ho speso una miseria Cioè Con diverse cose Che ho speso una miseria Non costa tanto tiger Abbiamo preso una cosa Che Non userò adesso Ma Quando ci avremo casa Non ho resistito Cioè Voi mi potete dire Ma che la comprava fa Quando ci avrete a casa Lo ricompravi No Perché la roba da tiger È in esaurimento Cioè nel senso Sono collezioni Quindi una volta Se ne vanno E Me le faccio mettere qua Dalla mia mamma E quando andiamo a casa Nella nostra casa Tutta stramoderna Bianca Questi Cioè Posso morire Allora Posso morire Se casco Mi raccomando State a chiamare 118 Anzi Visto che non è una diretta Non state a chiamare Che sono già Bella e morta Dal pezzo Allora Sono questi due Nostri cari amichetti Uno E due Per chi si chiederà Cosa sono Naturalmente Allora Leviamogli il collarino Pure a lui Perché all'altro Su amichetto Gliel'ho tolto Allora Cioè Oh mio dio Allora Queste sono due lampade Ok Da Da comodino E Ecco A voi non vedrete Una mazza Frazza Cioè Si illuminano Di tutti i colori Ve la faccio vedere Aspettate Va basso un attimo E poi mi dovete dire Come potevo lasciarle lì Verde Blu C'è Cosa non sono A fine du monde 10 euro Luna E Fantastici Le amo Naturalmente sotto C'è la cosina Che dovete togliere Per farle partire E poi c'è Il tasto Ok E le Spengiamo Quindi Oh my god Due Di queste Poi Mannaggia Sono tutto in in mezzo Gente Cioè Tutto in in mezzo Io come potrò vedere così Me lo dovete dire Se può andare avanti così Perché c'è Né per me Né per il povero Filippo Comunque Allora A parte che la bustina è carina Quella che ti danno Non so Alina mi ha detto Guarda se mi sa che te l'hanno Non è che te l'hanno regalata Te l'hanno fatta Pagata 10 centesimi anche Penso Come tutte le buste Va bene Allora Poi ho preso Perché naturalmente Non ho resistito Perché Di Unicorno Bene o male Mi piacciono Queste cosine Ho preso questo Che è un quadernino Pagato 2 euro O 4 euro Questo non me lo ricordo Dove all'interno abbiamo parecchie pagine Che io lo voglio usare Ho due utilizzi Uno per voi del canale Cioè per i vari Video che devo fare Perché comunque io mi scrivo tutto Altrimenti Sarà un diario Per quando Me ne vado Poi Abbiamo preso Il ciuccio perugo Che è tipo Un ciuccio così Fatto a maiale Con i denti Poi Alina ha preso Questo Che è un blocchettino Tipo un euro Così Con la pennina accanto Molto molto comodo Perché questo Ve lo potete mettere In tasca Ve lo potete mettere Ve lo sapete Poi Questa Sempre per Alina Comunque È una mini Aggiwendina Però questa Ha i giorni E per me Ho preso Questa Del 2018 Fa un po' Rescere Fa un po' schifo Rescere Nel Questa scritta 2018 Però Quando poi Io ci attacco Tutte le mie Cosettine Per 4 euro Anche questa Mi sembra Ottima Perché fra parentesi Ha questi La copertina In plastica Dove voi All'interno Ci mettete Tutto quello Che vi pare Io Ce l'ho Queste cose Avute Di già Come agende Sono perfette Perché io Raccatto Allora Ve l'avevo raccontato Io avevo il vizio In tutte le città Che andavo Quando si trovano Quei 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 Cosi che le trovi Attaccati al muro Adesivi Che la gente Attacca Disegna Spesso le staccavo E scrivevo Dove le avevo Prese E quindi Le potrei benissimo Poi mettere Chiappare E mettere In fondo O all'inizio In fondo Di capelli Che fanno schifo E l'ho lavati Ieri E questa è l'unità Vabbè Lasciamo perdere E comunque Agenda giornaliera Dove all'interno Troviamo Gennaio Febbraio Molto Molto carina Per 4 euro Mi sembra Veramente C'è le note In fondo Con il calendario Dove se volete Segnate il marchese Sapete che io adoro La carta E' veramente Veramente una figata Per 4 euro C'è tutto E mi è piaciuta Tantissimo Basta Ah vabbò Le caramelle Già terminate Appena prese E il E lo smaltino Allora Non abbiamo più spazio Però non sto sicura Che ancora abbia Inviato il messaggio Alla mail Quindi Stringiamo Questo smaltino I prezzi Pimbe Ve le sto a scrivere Andate da Tiger E tanto sono quelli Volevo prenderlo Da Da Kiko Ora se voglio Farla svelta È quando C'ho peccata Da Kiko Che però Perché ultimamente Io veramente Non sto Ho degli smalti Perché quelli belli Che avevo L'ho tutti Sempre laggiù E poi mi ispiravo Cioè sto Quest'anno A parte che ho Le cevicchie Nei denti Però Quest'anno C'ho la fissa Dei marroni E allora E quindi ho preso Questo bellissimo Marrone Scurissimissimissimo E qui ci siamo Poi Sono andata dal cinese Ho preso naturalmente Il microderma Da mano al negozino Le palline più piccole Dal cinese Pagati un euro A orecchino Poi Questo è quello Che vi faccio vedere Nel video Del vlog Non ho resistito Cioè non ho potuto resistere Cinque euro Allora guardate cosa non è Questo è un portafoglio Visto che L'unico problema Che ha È che io Ci metto veramente Il polmoni Fegato Pancreas Dentro Tutto dentro Il borsello E quindi questo Essendo Non ci puoi caricare Una persona Dentro Ovvero Si apre A scatto Come le borsine E dentro è così Allora qua C'è questo Ci abbiamo pure Una specie di portachiavino Qui ci sono I documenti Qui ci metto La foto di Axe Come ho di là Sempre portadocumenti Qui dentro Ci mettiamo soldi E qui dentro Ecco la cerniera È già rotta Praticamente Va buono Cinque euro Potevo resistere Cioè è troppo È troppo figo Ed è troppo Con queste bamboline Poi Sempre dal cinese Ho dovuto Approfittare Perché mi mancavano Le magliette A maniche lunghe E quindi ho preso Due razzatone Però per cinque euro Allora Questa a maniche lunghe Così perché nera Non c'era E poi mi sto accorgendo Che sto Diventando una Tarchettuna Cioè ho tutto Nero Todo Todo Nero Todo on black Questa E questa Che è marrone Quindi provo Per non comprare Il nero Quindi questa Con il collo Di quelli aperti Che io non ho zinne Ma mi piace il collo Se sta per finire Il coso E questo Basta Non dovrei aver preso più Nada Perfetto Ce l'ho fatta In due venticinque Due e trentatré Vi amo Vi lovo Siete il mio sostegno Ciao amori miei Grazie Ciao